Ciao a tutti nabbi e nabbe, qui è il vostro picchiettatore di tasti preferiti Merlot, oggi per il terzo episodio di Kingdom Hearts. Nello scorso episodio abbiamo finalmente iniziato a picchiare un po' le mani, abbiamo sconfitto il primo boss e liberato la città di mezzo, stavo per dire terra di mezzo, dai Yartless. Abbiamo inoltre conosciuto i nostri alleati, su tutti Pippo e Paperino, che ci accompagneranno nel nostro viaggio sulla Gamship. In questa puntata invece ci avvicineremo a un nuovo mondo e lo esploreremo, Wonderland. Quindi tutti pronti sulla Gamship a partire dopo la sigla! Ok, siamo pronti a continuare l'avventura, andiamo in questo mondo, livello di stelle 1 quindi un po' più facile, e vi anticipo che sarà Wonderland. Ok, ecco la Gamship. Ok, come vi dicevo, noi ci soffermeremo molto sulla storia, quindi in realtà salterò... Tutti i viaggi con la Gamship, a meno che diventi assolutamente necessario mostrarvelo. Ok, eccoci, ci stiamo avvicinando a Wonderland. Il paese delle meraviglie, ovviamente. Ok, eccoci, eccoci. piccola curiosità che ha preparato la nostra Triss, che vi ricordo potete trovare su altri video del nostro canale, come per esempio i gameplay di Crash Bandicoot 3. sapevate che Alice in Wonderland è il tredicesimo classico Disney, ma forse non sapevate che Walt Disney voleva che questo fosse negli anni 30 il primo. poi purtroppo per una serie di vicissitudini non riuscì a realizzarlo e trovandosi a doverlo fare addirittura negli anni 50, di preciso nel 51. quindi pensate quanto tempo è passato da quando Walt voleva realizzarlo. come si tratta così piccola? ah no, sei semplicemente troppo grande. ah, eccoci! dovresti essere così piccola? ti mi ha riuscì. buongiorno. buongiorno. ho bisogno di più dormire. aspettate, cosa dobbiamo fare per creare piccola? dormigliona. perché non provi la bottiglia? là. e siamo diventati piccolini. vediamo un po' che cosa troviamo. ah! subito! si combatte! ok. la situazione si è tranquillizzata. e invece no. vediamo qui, se c'è qualcosa. qui c'è una scatola. qui c'è una scatola. questo ci farà ridiventare grandi. qui c'è qualcosa sul letto. ah! un passaggetto segreto. allora, ridiventiamo piccoli e vediamo un po' che succede. c'è un processo in corso. c'è un processo in corso. che bello donnino. che bello donnino. che bello donnino. che bello donnino. che bello, E' un po' di aiuto! Siamo iniziali, quindi non sarebbe un pochino? Oh sì, e questo è contro le regole! Il giudizio trova il defendente, il giudizio è stato trattato per i crimini di assurdo e l'attempo di testa del mio cuore! Passa con il cuore! No, no! Oh, per favore! Chi sei tu? Oh, come potresti interferire con il mio cuore! Scusami, ma sappiamo chi è la vera culpata! Oh, è il cuore! In ogni modo, non è la persona che stai cercando! E' un pochino! Hai alcune prove? Ok, portiamo le prove. Evviva! Allora, intanto andiamo a parlare con Alice. E' un po' di qua! E' un po' di qua! Un po' di qua! Un po' di qua! Che lo sa? Fantastico questo personaggio! ok dobbiamo trovare delle prove e intanto combattere ok ok questi sono ok se gli dai una pozione ci fa diventare grandi vuol dire che sicuramente ci servirà per completare tutte le sfide ok prima esploriamo un po' e vediamo che altro c'è ok combattiamo allora dicevamo qua mi pare di aver visto delle orme prima prova un po' stanza bizzarra opla altra prova odore ok dobbiamo rifare tutto il giro proviamo a darci a dare una pozione e diventare più grandi distruggerò tutto no eh qua che succede ti fa di salire va bene ok abbiamo alzato una foglia ah qui spostiamo l'inclinazione ok prendiamo questa noce e torniamo più piccoli per ora ok continuiamo a esplorare ok prima sconfiggiamo altra prova quindi abbiamo prese tre se non erro incredibile sono riuscito a saltare senza cadere oppla invece no ho parlato troppo presto ovviamente sono caduto vediamo un po' che c'è qua abbiamo trovato tre cuccioli d'almata ok qua c'eravamo già stati ovviamente sono caduto ok ecco la abbiamo buttato giù il paperino ovviamente per un soffio ok abbiamo imparato un nuovo incantesimo direi che possiamo andare a portare le prove alla regina ecco le mie prove ovviamente ha aggiunto le sue stesse prove allora quale scegliamo dai questa sicuro prova giusta direi ok dobbiamo combattere loro sono ostica lo so ok rotto ce l'abbiamo fatta curiamoci ottimo abbiamo liberata e invece no in pieno stile wonderland è sparita ok continuiamo a cercare allora grazie sei molto d'aiuto ok ok donald here ok abbiamo spostato l'albero vediamo se ci può aiutare ad andare avanti ok abbiamo spostato questo albero andiamo qua vediamo un po' che c'è come on come on ok avete capito dove stiamo nella stanza dove c'è la porta guardiamo Oh la scatola ok andiamo a vedere che c'è in questo quadro andiamo a vedere che c'è in questo quadro e così torniamo al bosco va è un po' se c'è niente allora andiamo qua adesso va che meraviglia buon non compleanno buon non compleanno a tutti a provosti ok 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 vediamo giusto un po' in giro cosa c'è se troviamo qualche segreto o qualcosa pare di no ok accendiamo le luci ok e come accendendo l'altra vabbè vabbè dove siamo una cassa tondara con me ok andiamo dalla serratura a vedere se ha problemi qui è qui è qui è qui ok questo boss è un po' rognosetto bisognerà essere molto molto aggressivi con lui perché altrimenti ti punisce sono stati sfortunati perché si è piazzato esattamente dietro la sedia a combattere quindi non possiamo sfruttare l'altezza finalmente si muove un po' usiamo il tavolo allora ok adesso inizia la parte complicata che infiamma le sue naragas questo vuol dire ovviamente per noi tanti tanti danni uh durissimo ce l'abbiamo finalmente fatta è stato tosto eh c'è c'è a racchetto. Come è un doorknob per capire a dormire? Ok, abbiamo aperto la serratura. No, abbiamo chiuso qualcosa. Ok, nuovo gammi. Ok. È arrivato il momento di salvare. Ok, siamo sulla gammi ship, quindi per oggi basta così. Grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale. Vi ricordo inoltre che noi siamo anche su Facebook, Instagram. Abbiamo anche un gruppo Telegram per aggiornarvi sulle nostre pubblicazioni, quindi potete trovarci tutti i modi che volete. Grazie mille da Merlot. Ciao! 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 Grazie a tutti